In prossimità all'ingresso di Revine, si gira a destra per questa scorciazione. Ecco alcuni scorci del centro storico di Revine. Dopo dovrò salire per questa salita. Vedete la piazzetta, bella, ben tenuta, campanile della chiesa storica, ecco qua, panoramica. Adesso dovrò salire questa salita per raccordarmi con la strada che sale a piazzare femmine. Ecco qua. Ecco mi è giunto alla chiesetta della Madonna della Neve. Sono a 650 metri quasi. Qui farò una sosta, berrò un po' d'acqua, la fontanella, bella, fresca, poi riprenderò la salita. Eccola qua. Guarda che casinca da qua. Grazie. 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 Giuseppe Chiarel. Con ardimento e fatiche non comuni. L'acqua dal vallone dei Borai. a codessa in benedizione per sempre. Lama delle crode 5.8.1931 ecco qua, bravo! Ecco che sto giungendo al piano delle femmine, 1130 metri, oggi è il 2 aprile, bella dieta fresca. Qui è la deviazione della canale di Limbada, eccola qua! E' il 2 aprile e vedete che c'è ancora un po' di neve, mi sa che è meglio che scendo per non cadere o no? Ecco, entra nel bosco, qui sto andando in direzione della posa. Buongiorno amici con il deltaplano. Vedete, qui sarà solo un po' di neve e poi ci arriva a Pranolzi. Ecco qua la veduta sui laghi, sempre bella. ecco qua. che sto giungendo alla deviazione che dove inizia la strada forestale che scende giù a Sottocrova, che è questa qua. Eccola qua. Strada silvopastorale sotto Croda Limana. ecco qua. ecco qua. ecco qua. ecco qua. una bella vista sulla vallata. ecco qua. 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 guarda che bello bella rita bella fresca bella rita Grazie a tutti 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 Grazie a tutti